Chiusa anche gara 2 qui a San Marcellino, soffertissima, molto diversa rispetto a gara 1, ma lo sapevamo, lo sapevi anche tu coach, Valsese oggi ha sfoderato una prova incredibile al tiro, nell'aggressività, però la Fiorentina Basket c'è stata e l'ha vinta di squadra restando attaccata mentalmente a questa partita. Ma innanzitutto sono vittorie queste che veramente ti danno un'autostima, una fiducia, una carica veramente importante perché vincere una partita dove in attacco siamo stati imprecisi, dove c'è stata anche tanto sfortuna, tanti canestri usciti dentro fuori, sembravano già detto, escono fuori. È un metro arbitrale che ha concesso molti contatti, andare a vincere queste partite soprattutto quando poi subentra un po' di ansia perché chiaramente siamo a playoff e tutti ci tengono a far bene. Sono stati eccezionali ragazzi a portarla a casa di carattere, veramente di carattere, con grande voglia di vincere e con grande lucidità nel finale. Sicuramente noi dobbiamo però imparare che non dobbiamo troppo specchiarci perché forse è anche responsabilità mia, io penso di aver fatto di tutto per preparare ragazze a questa partita, però arrivare alla partita e non essere cattivi, feroci, una partita di playoff come è stata nei primi cinque minuti è ingiustificabile. Questo ha incasinato tutta la partita perché dopo rincorri e qui devo dire che sono anche un po' arrabbiato con l'ambiente perché l'ambiente ho visto troppa facinoneria, prima della partita troppi scherzi, troppo risate, chi era intorno alla squadra troppo rilassato, non va bene. Non è nella mia modo intera da pallacanestro, bisogna essere sempre lì al pezzo, sempre duri, non è facile vincere le partite e soprattutto non bisogna pensare di essere troppo bravi. Noi purtroppo, per fortuna, veniamo da una serie importante di vittorie, invece dobbiamo capire che siamo una squadra buona ma con dei limiti. E questi limiti vanno ogni giorno, ogni partita, cercate di superare. Quindi l'insegnamento della partita di oggi è questo. Forse la vittoria di 30 di domenica, nonostante tutti gli avvertimenti, nonostante tutta l'attenzione, è stata già un po' anestetizzata. Comunque, allo stesso modo, vittoria di carattere, quindi ora sappiamo che andiamo a Valsevia da sfavoriti, perché Valsevia ci ha messo in difficoltà, a parte la partita di domenica che è stata finta, le altre partite ci ha messo sempre in difficoltà. Andiamo in trasferta, dobbiamo sapere che andiamo lì da sfavoriti e ci vuole un'impresa per vincere, perché poi arrivare qui alla quinta sarebbe molto pericoloso. Questo è quello che dobbiamo avere in testa. Ci sono alcuni giorni, come dicevo al capitano, non di riposo, ma di riposo mentale per ricaricare le energie, perché dopo una prova del genere stasera penso che non sarà semplice anche per te tenerli sul pezzo, però penso che abbiano imparato la lezione e quindi penso che anche, come dicevi tu, l'ambiente intorno sia più concentrato, più sul pezzo, per garantire anche l'apporto morale alla squadra, perché la squadra ne ha bisogno. No, no, il pubblico ci ha trascinato, il pubblico è stato incommiabile. Mi riferisco a altri componenti che ruotano intorno alla squadra. Comunque, anche questa è una lezione e i ragazzi sono stati, ripeto, eccezionali, perché poi alla fine se andiamo a stringere abbiamo fatto male 5 minuti, 35 siamo stati eccezionali. Però quei 5 minuti, come vedete, come impareremo, possono influenzare una serie play-off. Dobbiamo stare attenti. Quindi 40 minuti tirati a Valsesia per portare a casa la serie. 40 minuti feroci di sangue agli occhi.